Allora, siccome siamo in attesa dell'aereo, siamo un paio d'ore in anticipo e non c'è ancora il gate, vi faccio vedere con un piccolo edit in quello che abbiamo fatto stamattina, ossia la ripresa aerea di Santa Sofia, la cui statua, per il solo discorso di essere leggermente con il décolleté, non è ben vista dal mondo religioso, quindi non è neanche considerata religiosa, ma quasi pagana, e vi faccio vedere anche la relativa cattedrale, sempre intitolata Santa Sofia, ripresa dall'altro, sempre. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.